Andiamo avanti anche con l'oroscopo, sagittario. Sì, il segno del sagittario non è una giornata proprio ideale questa per voi amici del sagittario, ecco spero per tutti gli altri segni dello zodiaco che non abbiate a che fare con un sagittario magari in una riunione di condominio, insomma dove c'è bisogno di discutere, di problematiche che hanno a che fare con una comunità, diciamo così, perché i sagittari saranno molto polemici, avranno... Sennò viene fuori lo stesso problema di quelli di prima, di strada. Esatto, esatto. E poi, beh, questa è una luna che parla anche però di sensualità, però una sensualità che voi farete fatica a tirar fuori, perché sarete lì in attesa che sia il partner sempre a fare il primo passo. Andiamo al segno del capricorno, una luna opposta, una luna che...